Sì, scommettisi, c'hai coraggio, c'hai tutta lingua, c'hai... Ha detto che lui si sarebbe mangiato un chilo di patate e una sporta di cacchi... ...e che dopo un quarto d'ora si faceva il bagno e non gli faceva niente. Sì, ma... Però Pepperfolli gli ha detto che lui si doveva attraversare tutto fiume... ...anna e torna e non solo entra dentro e usci fora. Sì. Ah... Però c'ho sempre un anello da scommettere, scommettisi, c'hai coraggio, c'hai tutta lingua, c'hai... Ah, ma allora sei proprio pignolo, sì, sì. Sì, va, va. E' tanto che c'è stato uno dei... Pasolini nel 1955 apre i ragazzi di vita, il suo primo e forse più grande libro. E' giunto a Roma da Casarsa, insieme con la mamma, sono fuggiti insieme nel gennaio del 1950, abbandonando il padre e vivranno insieme a Roma fino alla morte della madre e cambieranno quartieri. Pasolini arriverà al grande e elegante appartamento dell'Eur, ma appena arrivato a Roma conosce le borgate. Conosce la borgata vicino a Ponte Mammolo, vicino a Re Bibbia, la prigione. E soprattutto passerà anni belli e importanti insieme con Attilio Bertolucci a Monteverde Vecchio, in via Giacinto Carini, dove ancora oggi una lapide lo ricorda. I primi luoghi dei suoi romanzi romani sono appunto questi, Monteverde Nuovo, adiacente a Monteverde Vecchio e poi la borgata al tempo di Donna Olimpia, accanto alla quale c'è il ferro Bedò. Il primo grande personaggio del libro accanto al ricetto è proprio un luogo, proprio saccheggiato questo luogo da una folla urlante. Ci sarà nel libro poi anche il saccheggio ai mercati generali.